Nonostante siano flebili i segnali di ripresa dell'economia italiana e dell'eurozona, il primo trimestre del 2012 vede una lieve ripresa dell'ottimismo nel settore immobiliare. Dopo un 2011 in cui la percentuale degli italiani che ritenevano fosse un buon momento per acquistare casa era ferma al 45%, l'ultima rilevazione indica come ora la percentuale sia in lieve risalita al 49%. Ma allora oggi comprare casa è davvero ancora un investimento sicuro? Secondo me no, converrebbe vivere in affitto per i primi anni e poi eventualmente considerare l'acquisto in futuro, ma assolutamente non all'inizio, dalla propria esperienza lavorativa. Meglio di dare dei soldi alle banche o di tenerli sotto al cuscino, sì. È una delle cose più sicure che ci sono rimaste fino a prova contraria. È un bene rifugio, tocca vedere se gli italiani riescono ad avere le possibilità per avere ognuno almeno una casa. In teoria dovrebbe esserlo, non so se lo è ancora visti gli ultimi sviluppi, però penso che sia forse quello più sicuro, sì. Senza la casa si fa fatica a fare qualsiasi altra cosa, cioè si fa fatica a lavorare perché non hai un posto dove tornare. O stai a casa con i tuoi genitori, oppure se vuoi avere una casa per te, credo che sia l'unico rifugio che tu hai. Sì, alla fine sì, alla fine hai un luogo sicuro, quello sì. Direi di sì, assolutamente sì. Un bene rifugio per eccellenza da sempre. Quali sono le difficoltà per una coppia di oggi, di giovani di oggi, per comprare, cercare, trovare casa? Beh, sicuramente le maggiori difficoltà fondamentalmente sono quelle dovute al finanziamento. Cioè nel senso, oggi essendoci poi un problema da parte delle banche nel rilasciare i mutui, è molto difficile farsi rilasciare un mutuo senza avere delle garanzie prevalentemente. Quindi sicuramente il finanziamento è la parte peggiore. Sono gli stipendi piccoli, i contratti a tempo determinato. Oltre questo c'è appunto il problema anche del mutuo della banca. Sì, anche perché senza questi, cioè con questi criteri non te lo danno il mutuo. Cioè è inutile che tu fai la domanda perché tanto ti viene la spinta, perciò noi quando abbiamo voluto comprare la macchina per 2.000 euro non siamo riusciti, perciò 2.000, figuriamoci 100 o più di 100.000. Se si guarda al presente, il grande ostacolo, soprattutto dei giovani e delle coppie, sono le banche. Ma il grande interrogativo degli italiani dei prossimi mesi riguarda l'impatto che l'introduzione dell'Imu avrà nelle loro tasche. Una recente ricerca condotta dal Censys su oltre 700 potenziali acquirenti ha messo sotto la lente di ingrandimento le caratteristiche che gli italiani ricercano nel momento in cui pensano all'acquisto di una casa. Dai risultati, la casa ideale è localizzata in un'area semicentrale della città, ben servita da mezzi pubblici tra i 90 e i 120 metri quadri, almeno tre locali, due bagni e un posto auto, per un prezzo compreso tra i 170 e i 200.000 euro. Ma in realtà, sempre secondo il Censys, il valore medio di questo immobile si aggira intorno ai 250.000 euro. Ne emerge dunque una differenza significativa tra il prezzo soggettivo che gli italiani attribuiscono all'immobile e il valore del mercato di quest'ultimo. Un altro punto cardine per coloro che non possono permettersi di comprare una casa anche per un basso reddito è l'edilizia residenziale pubblica, su cui molte amministrazioni comunali stanno puntando le loro risorse. La situazione casa è sicuramente problematica, io parlerei di un'emergenza casa. Noi abbiamo trovato un'eredità molto pesante, 20.000 cittadini, anzi 21.500 erano a gennaio i cittadini in graduatoria per una casa popolare, circa 2.000 gli alloggi sfitti a Milano di proprietà del comune altrettanti di Aler. Questa è la situazione che noi abbiamo trovato un anno fa. Ci siamo andati da fare e abbiamo ristrutturato molti appartamenti sfitti, ne abbiamo, io conto di arrivare a un migliaio alla fine del 2012, ci sono ancora i lavori in corso. Ma ci si muove anche per altre fasce sociali. Noi ancora non abbiamo messo mano a uno dei progetti più importanti del programma Pisapia che è quello dell'agenzia per la casa, cioè l'incrocio tra la domanda e l'offerta di alloggi privati, da privati, quindi adesso sono entrata in un altro campo e che viene incontro per quanto riguarda l'affitto a quella fascia grigia di persone che sono troppo ricche per accedere a un alloggio popolare e troppo povere per un alloggio al libero mercato. Questa è una fascia su cui noi stiamo lavorando. Ma se ne parla soltanto dopo l'estate.